Cari amici vicini e lontani, fortetti e bibbiani, maglione a collo alto anche in casa perché fa freschino, un breve aggiornamento, una breve promo, un breve aggiornamento sull'Ucraina, per avere maggiori dettagli e poter parlare, entrare più nel merito con calma, vi rimando alla live di domani, il solito appuntamento settimanale che appunto questa settimana non sarà il sabato, bensì alla domenica, domenica 29 gennaio, ore 14 e 15, 14 e 30, minuto più, minuto meno, sarò ospite di Mirko Carotenuto sul canale Autocertificazione Italia e parleremo appunto di queste tematiche della situazione proprio sul campo, gli sviluppi degli ultimi giorni, ora mi limito a dire che piove sul bagnato, sempre peggio per gli ucraini, ora i tritacarne non sono più uno ma sono diventati due, a quello di Bakhmut che continua, si è aggiunto quello di Ugledar, dove la situazione appunto ha grandi linee paragonabili, perdite quindi enormi, perdite molto sostenute sia di uomini che di mezzi, anche arretramento territoriale da parte degli ucraini e sono cadute anche posizioni difensive assai fortificate ma poco presidiate numericamente da dei soldati e questo anche questo è un fatto di per sé allarmante per gli ucraini che sta a significare senza dubbio una mancanza di personale per così dire. il tutto a peggiorare la situazione sempre per gli ucraini sta avvenendo senza che i russi abbiano aumentato i loro sforzi, abbiano messo in campo qualcosa in più rispetto a un mese o a un mese e mezzo fa senza che abbiano sferrato nessuna grande offensiva, nessuna offensiva in grande stile. Per ora mi fermo qui, domani ripeto alle 14, 14 e 15, 14 e 30 in quella fascia lì avremo questa live sul canale Autocertificazioni Italia con Mirko Carotenuto. Vi aspetto, grazie per l'attenzione e alla prossima.